Quando un popolo si scoprì in azione. Nel centenario della prima guerra mondiale, Pescara dedica due giorni improntati alla conoscenza della storia per non ricadere negli stessi errori. Il 24 maggio del 1915 l'Italia entrò nel primo conflitto mondiale e a distanza di cent'anni si ricorda quella stagione. Lo facciamo anche a Pescara con una due giorni di grande livello in cui si discute, si ricorda e in qualche modo si vuole lanciare un seme anche per le nuove generazioni. A presenziare all'importante appuntamento c'è Franco Marini, ex presidente del Senato, che oggi, alla luce dei fatti di Parigi e di quello che è scaturito successivamente, compie una riflessione sulla guerra nel XXI secolo. Come si deve comportare l'Italia dopo la chiamata alle armi della Francia? Devo dire che resta sempre questa aspirazione alla pace. Bisogna togliere però le condizioni, le ragioni degli scontri, come dicevo. Ora, non invoco la guerra, però una posizione ferma ed anche una risposta a questo dilagare, questa forma di guerra diversa ma pericolosissima, un segno che l'Europa, assieme alle altre potenze occidentali, dia una risposta e mostri la capacità di resistere. Questo è necessario. Lo facciano i governi. Noi abbiamo anche una direzione proprio con questo all'ordine del giorno nazionale del Partito Democratico. Io credo, ma la posizione del Presidente del Consiglio di Renzi mi pare che sia un po' equilibrata. Grazie. 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 Grazie.